Il concilio di Trento 1545-1563 che determina il volto del cattolicetto romano. Di fronte alla riforma protestante che ha assunto le forme del luteranesimo, del calvinismo, dell'ambilitanesimo, come reagisce la Chiesa Cattolica? Reagisce riaffermando prima di tutto l'autorità papale. Perché i protestanti mettono in dubbio l'autorità papale e cercano poi di riportare la Chiesa ha quei tratti di serietà che il Vangelo stesso richiama. C'è un dato di fatto. Moltissimi sacerdoti hanno una formazione superficiale. Moltissimi sono ignoranti. Spesso vivono con donne. I vescovi non si occupano delle loro dioce. occorre stabilire nuovi criteri morali e la Chiesa cerca di ricostituire il proprio volto. Prima di tutto il concentrato stabilisce alcune norme che sono in parte ancora presenti fra noi. Come deve essere istruito il figlio? Deve essere istruito attraverso delle nozioni essenziali che si riassumono in un testo. Il catechismo. Ecco l'introduzione di una realtà importantissima. il catechismo che i sacerdoti devono utilizzare per la formazione dei figli. Ma oltre a questo come i sacerdoti si devono formare? I sacerdoti devono seguire un corso regolare di studi nei seminari. Il seminario nasce con il concilio di Trento. Qual è uno dei cardini che la nuova Chiesa cerca di ripadire? Soprattutto il valore della confessione e della comunione. Elementi che trovate ancora oggi nel mondo della Chiesa. Ecco un aspetto molto significativo. la confessione. Ma un sacerdote confessa un sacerdote ascolta chiede notizie sui peccati. La Chiesa pensa che la confessione di una donna per un sacerdote sia una fonte di tentazione. Soprattutto se si parla di peccati che riguardano la sfera della sessualità. Ecco quindi nasce nasce un mobile un mobile che ci ha accompagnato fino ad oggi. Quale mobile? Il confessionale. Quando voi entrate ancora oggi in una Chiesa voi vedete questo mobile particolare che serve per la confessione. Ma questo mobile un tempo veniva usato soltanto per la confessione delle donne non del mobile i mobili si confessavano sempre proprio un tempo al diretto contatto visivo del sacerdote. Il confessionale isola il sacerdote da chi si confessa. Se voi vedete un confessionale attentamente praticamente c'è una separazione fra il sacerdote e la persona la donna in questo caso una grata una piccola grata traforata che fa ascoltare ma non fa vedere bene la persona la si intravene. Vedete dunque un aspetto caratteristico che sarà uno dei maggiori sostenitori del confessionale un vescovo grande protagonista di questi anni lontani Carlo Borromeo cardinale e arcivescovo di Milano che sarà poi addirittura santo San Carlo Borromeo San Carlo Borromeo sarà uno dei grandi sostenitori del confessionale c'è poi un rapporto diretto con la figura di Cristo Cristo deve essere sempre presente sull'altare ma quale Cristo Trento vuole esaltare il massimo interprete di questo spirito romolo è Michelangelo Bonarro che delinea un Cristo in un disegno per Vittoria Colonna che sarà il modello esemplare quale Cristo disegna Michelangelo un Cristo vivo non il classico Cristo morto sulla croce ma un Cristo che è vivo e guarda in alto agli occhi rivolti verso il cielo quindi un Cristo che è un mediatore fra Dio e la realtà circostante questo modello del Cristo vivo sarà uno dei modelli che trionferanno in questo momento e come si chiama quest'epoca di profonde trasformazioni nel mondo della Chiesa ma anche nella società perché la Chiesa è uno degli elementi della società in questo momento i cattolici parlano di riforma cattolica la riforma protestante la riforma cattolica altri studiosi parlano invece di contro riforma cioè la riforma protestante l'opposizione alla riforma protestante quindi l'età della contro riforma ma questo stabilisce un'altra cosa interessantissima è il coinvolgimento dei fedeli nella vita delle parrocchie ad alto e basso livello ad alto livello il coinvolgimento è dato attraverso la realizzazione di autari cappelle le famiglie più importanti di ogni parrocchia hanno la possibilità di avere un proprio altare una propria cappella per distinguersi all'interno della parrocchia e noi grazie a questo abbiamo delle testimonianze eccezionali perché se voi entrate in qualunque parrocchia del passato puoi vedere una serie di cappelle una serie di alzari e questi altari queste cappelle come sono spesso sono decorate dipinte contengono sculture contengono quadri le grandi famiglie facevano a cara a decorare le proprie cappelle per mostrare al pubblico dei fedeli non tanto la loro defunzione quanto il loro livello economico ma anche la scelta di gusto questo ha trasformato le chiese dalla seconda metà del cinquecento in vere e proprie gallerie di opere d'arte proprio perché questo dettato della riforma cattolica ha stimolato enormemente la convivenza artistica e i fedeli di più basso livello che non avevano il denaro per una cappella avevano una sede in ciascuna parrocchia la cosiddetta compagnia in alcune parrocchie si ricorda ancora la stanza della compagnia erano compagnie nel santissimo sacramento o di santi dove i fedeli di più basso livello si riunivano si aiutavano reciprocamente pregavano ed erano per così dire coordinati dai vari sacerdoti quindi noi cosa vediamo vediamo una profonda trasformazione della società nel mondo cattolico romano la contro risurma si manifesta in modo invadante e emergono nuovi ordini uno lo abbiamo già visto la compagnia di Gesù con Ignazio di New York c'è poi un altro ordine interessante legato a un santo fiorentino Filippo Neri Filippo Neri ha lasciato però Firenze è andato a Roma e nella chiesa di Santa Maria in Valdicetta ha creato l'oratorio Filippo Neri è un santo molto interessante è un uomo che vuol vivere la spiritualità con gioia senza sofferenze senza dolori è la donna molto diffusa la pratica dei filizi cioè di quelle cinture di spine che si dovevano indossare per soffrire per provare dolore imitando Gesù Cristo che chiedeva a Filippo Neri se doveva indossare il cilizio Filippo Neri gli diceva certamente che si deve indossare sopra il vestito in modo che non facesse nulla sostanzialmente Filippo Neri era famoso per le sue confessioni e per le sue penitenze una volta confessò una donna che era nota per le sue maldicenze diceva male di tutti diffondeva rancori provocava litigi capitò sotto le mani di Filippo Neri si confessò e gli dette lui una penitenza esemplare che lasciò però tutti soppresti doveva prendere un pollo morto spennarlo per la strada e quando lo avesse spennato tutto doveva tornare indietro e raccattare tutte le lingue come le parole che lei aveva sparso a un vento vedete quindi un santo particolare e Filippo Neri è il fondatore dei figli che ancora oggi esistono e i figli che cosa si occupavano di educazione elementare cioè si cerca di istruire i bambini come i gesuiti istruivano chi aveva necessità di accedere alla scuola superiore c'è però un punto molto importante e la contoriforma ribadisce il controllo della stampa il controllo della circolazione dei libri noi abbiamo visto le reazioni che questo suscitò in un grande centro tipografico come Venezia bruciare i libri impedire il commercio dei libri quindi ci furono molte pressioni molte pressioni sul papato per attenuare quell'indice che era stato pubblicato nel 1559 da Paolo IV Caracca il primo indice è il peggiore cioè dove nessun libro si salvava i libri all'indice dovevano essere bruciati tra questi libri un libro che niente arriva di teologico il decamerone di Boccaccio perché il decamerone di Boccaccio era finito all'indice perché i protagonisti di novelle appunto particolarmente pruriginose erano degli ecclesiastri le pressioni ebbero però un effetto positivo nel 1564 alla fine del Mocchio di Trento e si chiude nel 1563 il Papa Pio IV emanò un nuovo indice e introdusse un principio molto interessante alcuni libri che non erano totalmente imbevuti di eresia potevano circolare di nuovo se censurati viene cioè introdotto il principio della censura si poteva si poteva tagliare un pezzo due pezzi dieci pezzi che erano contrari alla morale per il resto per il resto il libro poteva circolare si poteva anche intervenire cambiando delle frasi modificandole così il libro poteva essere ristammato un grande dibattito verteva proprio su De Camerone soprattutto qui a Firenze perché? perché De Camerone come voi sapete è un testo trecentesco di Giovanni Boccaccio scritto in lingua italiana quindi la divina omelda in lingua italiana il De Camerone di Boccaccio le composizioni di Petrarca sono testi importanti proprio per la storia della lingua il De Camerone poi era un testo in prosa e questo lo rendeva particolarmente importante quindi si operò in modo che il De Camerone censurato potesse tornare in circolazione e il De Camerone censurato fu stampato e diffuso quindi noi abbiamo una possibilità bellissima noi abbiamo il testo del De Camerone scritto da Giovanni Boccaccio e abbiamo il testo del De Camerone censurato nella seconda metà del Cinquecento e quindi noi abbiamo la possibilità di capire la mentalità del censore della contro di forma cioè la mentalità di un censore uscito da un concilio di credito ebbene se io parlo con voi e chiedo a voi il concetto che avete di lecito e illecito se chiedo a voi il principio in base al quale si censura la vostra la vostra risposta sarà uguale a quella del censore del Tarfo Cinquecento questo questo è il quesito interessante cioè la morale che anche oggi è dominante è uguale dalla morale della contro riforma la morale uscita dal concilio di credito ebbene non è uguale questa è la cosa interessante non è assolutamente uguale allora io ho portato due edizioni l'edizione del Boccaccio un'edizione odierna che qualche anno fa il De Camerone di Giovanni Boccaccio nel testo originale e ho portato l'edizione censurata di Giovanni Boccaccio prendiamo prendiamo una delle novelle più licenziose voi sapete che la trama del De Camerone è una trama molto divertente siamo nel 1348 c'è la feste giovani ricchi fiorentini si ritirano alle flendici di Fiesole nella attuale villa a lunieri ragazzi e ragazze e per passare in tempo cosa fanno si raccontano delle novelle perché non possono uscire pericolose quello sta chiuso hanno la possibilità di avere bellissimi spazi giardini servitori di mangiare ciò che desiderano per passare il tempo si raccontano delle storie che naturalmente le storie più richieste più divertenti sono quelle più licenziose come il tempo ci insegna prendiamo una delle novelle più licenziose giornata terza novella prima masetto di lamporecchio si fa musolo e diviene ortolano di un monastero le quali tutte concorrono agli acerzi con lui questo è un giovane di lamporecchio molto brillante per trovare lavoro si finge musolo si presenta a un monastero di donne viene assunto e le monache quando sanno che è musolo vanno tutte a detto con lui che è venuto con lì ovviamente ora il censore del 5G uscito dall'alto di fuoco come trasformerà questa novella vi ripeto il titolo masetto dall'alto premio si fa mutolo e diviene ortolano di un monastero di donne le quali queste non corrono a giacersi con lui e boccaccio dove ambienta la novella in queste nostre contrate dunque siamo non troppo distanti di affidenza e il censore del 500 come trasforma questa novella maestro dall'ampuretio non maestro 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 dall'ampuretio si fa mutolo e diviene tornato di un serraglio di donne di un serraglio di donne le quali tutte non corrono a giacersi molto allora è vedete è la sessualità che interessa il censore del 500 no non gli interessa affatto che queste donne facciano da sopra e vanno a giacersi cosa interessa il censore del 500 interessa il monastero interessano le monache le monache non devono comportarsi così chi si comporta così un serraglio ampio di donne e dove siamo siamo nelle nostre contrade no appresso ad Alessandria siamo in Egitto ecco la grande censura vedete siamo in Egitto dunque chi si comporta così chi va a letto o chiunque i musulmani presto il mondo siamo all'Alessandria di Egitto e cos'è il serraglio un harem è un harem ecco come ha operato il censore del 500 non gli interessa la sessualità la sessualità è il mezzo per mettere semmai in una luce particolare chi non è cattolico romano che appartiene a un'altra realtà spirituale prendiamo un'altra un'altra novella anche questa particolarissima questa volta è il protagonista un frate molto intraprende frate Alberto da vedere ad una donna che l'agnolo Gabriele è di lei innamorato in forma del quale più fuori che si giace con lei questo è un frate incredibile perché da di intendere ad una donna che l'arcangelo Gabriele è innamorato di te si mette delle ali finte e appare a questa donna come l'arcangelo e di fronte all'arcangelo non si può correre se stessi questo è un tema per un censore del cinquecento notevole vedete e come viene trasformato Alberto non frate Alberto Alberto da vedere ad una donna che è cupido è di lei innamorato in forma del quale più volte si lasciano a lei quindi da un lato in musulmano è cupido è cupido è la divinità pagana dell'amore quindi questa donna chi sono? sono i pagani quindi vedete basta cambiare il contesto basta cambiare il contesto con questi accorgimenti il De Camerone fu ripubblicato e il De Camerone con queste censure è arrivato praticamente fino al contesto viene da 1814 15 quando la morale ricambia ancora una volta e questa morale viene sconfessata perché la sessualità viene vista interna e quindi viene contannata anche l'edizione cinquecentesca del De Camerone noi siamo eredi della visione più puritana che si diffonde dopo il 1814 15 e quindi la nostra morale non risente la morale più antica ma di quella più recente che cambia completamente il contesto dunque la Contra-Riforma si manifesta nelle realtà più tangibili e noi vediamo gradualmente una società nuova le chiese si formano dei dipinti i sacerdoti hanno una formazione migliore i vescovi hanno l'obbligo di residenza e il cattolicesimo ma no si radica molto di più ma la Contra-Riforma in quali paesi si diffonde l'Italia l'Austria una piccola parte della Germania la Baviera la Spagna e la Francia il calvinismo trionfa in Svizzera nei paesi bassi il luteranesimo trionfa in Germania e in Danimarca nell'estremo nord ma anche penetra poi in Svezia e l'anglicanesimo trionfa ovviamente in Inghilterra mentre la Scozia la Scozia che è sempre indipendente nelle sue caratteristiche lo vedete ancora oggi ha invece un influsso calvinista quindi la carta geografica è una carta molto complessa e noi cominciamo a vedere dunque una realtà multiforme le nuove acquisizioni scientifiche che si diffondono nei paesi protestanti non nei paesi cattolici proprio perché la differenza religiosa il controllo della stampa fa sì che tutto questo venga visto con un estremo sospetto quando si muovono viaggiatori la prima cosa che si controlla non sono i libri ne abbiamo una testimonianza bellissima in un filosofo francese che aveva seri disturbi di salute soffriva di calcoli di calcoli renali michelle michelle de montagne riceve dai medici che lo hanno in cura l'invito a fare un viaggio per provare gli effetti di vari etermi va a plombier alle etermi francesi le celebri etermi plombier va alla cristrana a germania dove c'erano etermi famose arriva in italia e in italia sperimenta e noi abbiamo il bellissimo diario di montagne che è una testimonianza dell'italia dell'altro perché quando viene montagne in italia a fare il suo diario tra il 1580 e il 1581 montagne è un uomo ricco cosa vuole che vuole alberghi di qualità vuole cibi di qualità ma non riesce a tenere perché l'italia di allora è soprattutto dominata dalla povertà qual è uno degli aspetti che più lo tormentano in italia come sono le finestre se voi avete in mente una qualunque finestra come quelle che noi abbiamo alle vostre spalle da che cosa è caratterizzata una finestra lo sapete da delle imposte e da dei vetri questa è l'immagine tradizionale che noi abbiamo noi consideriamo una finestra così è montante cosa dice non ci sono vetri alle finestre l'italia del cinquecento ha finestre senza vetri come ma i vetri quanto costava una cifra altissima non si riusciva non si riusciva a fare vetri grandi erano vetri a piccoli pezzi come vedete in queste finestre naturalmente qui in fondo dove non c'è vedete un vetro unico ma c'è perlomeno l'apparenza di tre sei nove vetri per anno questo era perché la tecnica di allora impediva di fare una lastra lunga grande pensate che per fare i vetri la tecnica era molto interessante i vetri venivano soffiati quindi cosa si faceva si faceva una bottiglia si faceva una bottiglia si girava il vetro sul pavimento in modo da ricavare una bottiglia più possibile allungata poi quando era caldo il vetro questa bottiglia veniva tagliata alle estremità in cima e in fondo e poi veniva tagliata a metà il vetro si distendeva sulla superficie del pavimento e quindi creava una lastra una lastra un po' irregolare se voi vedete i vetri antichi hanno queste irregolarità ma che lastre si poteva fare erano lastre modeste non di grande dimensione quindi una finestra aveva dei vetri con fogli anche così costavano moltissimo avevano vetri ricchi signori in palazzi che avevano le chiese vetrate talvolta decorate ma erano carissime le persone comuni avevano le finestre e avevano delle imposte di legno per chiudere ma se voi chiudete un'imposta di legno la luce non c'è più allora per avere un po' di luce al posto del vetro veniva messa una stoffa bianca come se noi mettessimo a una finestra un bel fuoco ma naturalmente un po' di luce veniva ma qual era il problema la temperatura dell'interno era uguale a quella dell'esterno e d'inverno d'inverno di base era un frigo di fiora se ne lagna a Montegna e che dice in questi alberi dove fa che era freddissimo lui un ricco signore paga molto per stanze d'albergo va a letto quante persone avevano dormito in quelle delle scuole non si sapeva giudicando come ci racconta lui dal sudice che era presente decine e qual era l'altro problema andando in questi alberi cosa si prendeva fulci e pedocchi quindi Montegna è un testimone incredibile perché ci fa vedere una Italia della seconda mezza del Cinquecento quindi Cinquecento povera qual era il vero problema e il vero problema era quello che per noi oggi è abituale l'Igene pensate che i medici raccomandavano di non lavarsi soprattutto nella stagione infernale c'era poi una parte del corpo che non doveva mai essere lavata soprattutto alle donne si raccomandava di non lavarsi mai quella parte del corpo in inferno i capelli come si asciugano capelli lunghi nella migliore delle ipotesi alla fiamma di un cammino sicuramente si prende freddo e il freddo era l'anticamera di bronchiti affezioni colmonari che non avevano terapie ecco il punto qual era quindi assolutamente non ci si doveva lavare lavarsi come oltretutto c'era forse l'acqua nelle case no c'era acqua calda in abbondanza no bisognava scaldarla fuoco tutto era estremamente difficile per le signore più eleganti che soffrivano di pulci e pidocchi esistevano piccoli accorgimenti venivano indossate delle cinture di pedo che piacevano moltissimo alle pulci e anche ai pidocchi che si rifugiavano volentieri tra quei pedi e così disturbavano meno il corpo poi ci si levava la cintura si lavava la cintura e questo serviva almeno per eliminare un po' di questi fastidi tutto questo era vissuto accettato quindi quando noi parliamo della vita del passato dobbiamo sempre ringraziare il cielo di essere nati nel secolo in cui siamo perché la vita del passato era una vita terribile tristissima anche nel caso di avere moltissimo denaro di avere grandi possibilità il freddo i parassiti le malattie erano continuamente incompenti non c'erano i medici e la vita era spesso una vita assentata del resto gli stessi ospedali erano visti con grande sospetti quindi Firenze emergeva per avere degli ospedali da vanguardia quando l'Usterio venne nel 1510 celebrò gli ospedali fiorentini pensate però che l'ospedale di Santa Maria Nova un ospedale duecentesco aveva letti a una piazza e mezzo dove venivano messi tre pavati per risparmiare spazio venivano messi due malati come quando noi andiamo a letto il terzo veniva messo fra i piedi in modo che avesse i piedi sul viso degli altri ufroni e potesse entrare meglio nel letto naturalmente i tre malati avevano malattie diverse un soggiorno all'ospedale era visto come l'anticamera di patologie diffuse perché uno entrava all'ospedale e non sapeva come ne sarebbe un giusto vedete questo era proprio il vero grande problema quindi questo secolo è un secolo ricco di luci di ombre e il problema della vita quotidiana è un problema indubbiamente molto presente che spesso viene trasforato nel rischio di storie quando le cose cominciano a cambiare questo panorama è un panorama cosco chiusura culturale controllo dei libri quando le cose sembrano destinate a una costruzione totale ecco una nuova luce che si ha questa nuova luce è legata a un grande scienziato a un grande pensatore che nel 1610 vedete siamo ormai arrivati all'inizio del 1600 fa una scoperta eccezionale voi tutti lo conoscete Galileo 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 vive a Cavallo tra i 500 e sui 100 si è formato a Pisa all'università di Pisa e è professore all'università di Padova dove insegna matematica astronomia è un grande astronomo e Galileo ha perfezionato uno strumento che in Olanda in quella che è praticamente la Repubblica delle Provincie Unite che si vede a poi Olanda è stato inventato questo strumento è il panocchiale Galileo perfezione il panocchiale mette appunto delle lenti che possono dare una visione più nitida e con questo strumento con questo suo panocchiale comincia a spusare il cielo quale concezione Galileo ha appreso nei suoi studi universitari quale concezione Galileo spesso insegna nei suoi corsi universitari l'antica concezione che lega il centro dell'universo alla terra la terra è il centro dell'universo a chi si deve questa concezione che pone la terra al centro dell'universo a un antico astromogeografo egiziano Tolomeo è la cosiddetta concezione geocentrica cioè con la terra al centro dell'universo o concezione tolemaica Tolomeo sostiene che la terra è il centro dell'universo Galileo punta il suo canocchiale sa che la terra è il centro dell'universo e scruta uno dei pianeti Giove il pianeta Giove e cosa scopre attorno a Giove scopre quattro satelliti i satelliti di Giove cioè fa una scoperta molto importante non solo ci sono pianeti ma ci sono dei pianeti più piccoli che ruotano attorno ai pianeti maggiori lui pubblica questa notizia questa scoperta nel 1610 e questa opera di Galileo è un'opera destinata ad avere un successo enorme lui vuol comunicare questa scoperta al mondo scientifico e questa opera viene intitolata Siderius Nuncius l'annunzio delle stelle l'annunzio siderate vedete l'annunzio delle stelle e Galileo scrive Siderius Nuncius lo pubblica nel 1610 e comincia a parlare di un nuovo aspetto del cielo comincia a parlare di satelliti che ruotano attorno ad altri satelliti come in caso di Giorglie Mostra e c'è un aspetto molto bello Galileo vive a Padova è professore all'università di Padova quindi sotto il governo veneziano ma Galileo è legatissimo alla corte medicea è nato a Pisa anche se la sua famiglia è una famiglia fiorentina e i suoi rapporti con i medici i granduti che si trovano a Firenze sono strettissimi in particolare con il granduca Cosimo II che in quel momento governa Firenze e Galileo scrive a Cosimo II lui ha fatto questa scoperta dei santi e di Dio voi sapete che anche oggi chi fa una scoperta scientifica ha il diritto di chiamarla come desidera e Galileo scrive a Cosimo II vuole dedicare questi satelliti ai medici vuole Cosimo II che si chiamino Cosmici oppure che si chiamino Medici Cosimo II gli risponde che preferisce che si chiamino Medici e allora il Siderius Nuncius 1600 è dedicato a Cosimo II e i pianeti di Giove si chiamano Medici e Asidera stelle Medici voi potete solo immaginare la gioia di Cosimo II che ha delle sfere dello stemma che sembrano ricondare nei corpi cieli si è orato sono proiettate in cielo e ancora oggi i satelliti di Giove si chiamano Satelli di Medici vedete l'incredibile ruolo di Galileo Cosimo II è così contento che invita invita Galileo a tornare a Firenze Galileo non vuole tornare Galileo stava benissimo a Padova aveva un ambiente eccezionale era seguito da tanti studenti aveva un buono stipendio e Cosimo II insiste noi abbiamo tutta la documentazione della frattativa Galileo è molto assoluto dice a Cosimo II che lui ha un orario di insegnamento modesto quante ore faceva Cosimo II quante ore faceva Galileo a Padova glielo dice a Cosimo II quanti ore faccio io a voi di storia generale tre e Galileo tre vedete anche qui non è cambiato glielo dice io faccio trenta ore Cosimo II gli dice ma non importa anche nessuna ora di insegnamento chi dice Galileo ma io guadagno tanto tre volte di fronte a questo Galileo non sta a Firenze gli amici veneziani non lo mettono in guardia la Repubblica di Venezia è stata capace di difendere i propri sudditi avverrà lo stesso a Firenze Cosimo II sembra garantire Galileo Galileo viene a Firenze e comincia a usare il suo campionale e a sclusare la luna a sclusare il sole e di cosa si convince sempre di più che il sistema polemanico è falso è sbagliato non è la Terra al centro dell'universo è il Sole come aveva sostenuto un altro astronomo Niccolò Copernico Copernico Galileo comincia a sostenere che Copernico ha ragione qui a Firenze queste tesi la voce le circola che Galileo sostiene Copernico arriva ai custodi più intransigenti dell'ortodossia dell'ortodossia della riforma cattolica della riforma e chi sono i ruggelosi custodi sono i domenicani di Santa Maria Noventa se voi andate nel piostro verde di Santa Maria Noventa si apre il grande cappellone degli spagnoli dove trovate un interessantissimo affresco di Andrea da Firenze dove compaiono i dominicanes i dominicani i dominicani chi sono? Dominicanes i cani di Dio i cani di Dio e che fanno i cani come i pastori custodiscono l'igreggio delle perccole e chi alzannano i lupi chi sono i lupi gli eretici quindi i dominicani messi attaccano attaccano gli eretici quando si diffonde la voce che Galileo matematico e filosofo delle granduna sostiene l'ipotesi di copernico due dominicani di Santa Maria Novella il padre Caccini e il padre Lurini il padre Caccini e il padre Lurini denunciano Galileo alla inquisizione cioè a quel tribunale che aveva il compito di verificare l'ortolossia Galileo era persona sospetta questi dominicani lo affermano e sempre a scrutare il cielo Cosimo II si trova in grande difficoltà una convocazione presso il tribunale dell'inquisizione era sempre pericolosa e noi vediamo Galileo costretto andare a Roma a essere giudicato dal tribunale dell'inquisizione Galileo è costretto a partire ma Cosimo II ha preso tutte le caute ha informato il proprio ambasciatore a Roma chi è l'ambasciatore a Roma di Cosimo II è il conte Piero Picciardini famiglia celebre di Firenze ancora oggi esistente Piero Picciardini è estremamente preoccupato perché Galileo era un uomo di carattere molto forte lo scrive l'ambasciatore lo scrive a segretario dell'Ecrancura si infoca s'arrabbia s'arrabbia enormemente Galileo si sarebbe infocato anche con i giudici del tribunale della inquisizione questa era la grande preoccupazione dell'ambasciatore Picciardini Galileo invece fu interrogato ebbe come interrompore un personaggio celebre un cardinale della compagnia di Gesù un Gesù il cardinale Bellarmino Roberto Bellarmino Roberto Bellarmino è uno dei grandi protagonisti dell'allunto di forma cardinale della compagnia di Gesù e di dove era Bellarmino la scelta del cardinale Bellarmino è una scelta mirata cioè si vuole proteggere il patrimonio Galileo perché dietro Galileo dice c'è il grandunca così così con Bellarmino era di Montepulciano se voi andate a Montepulciano voi vedete ancora il palazzo Bellarmino ma Montepulciano sotto chi era? Cosimo secondo dei metri quindi è vero che il cardinale Bellarmino era un cardinale di Santa Romana Chiesa e morava Roma ma i familiari del cardinale Bellarmino da chi dipendevano da Cosimo che cose quindi il cardinale Bellarmino quando incontrò Galileo nel 1616 gli raccomandò una cosa ma è proprio necessario parlare di questo problema questo è un problema matematico che può essere affrontato solo da studiosi meno se ne parla meglio è soprattutto non deve essere divulgato ci sono prove certe e il sole c'è in il diverso a Galileo gli disse prove certe non ce ne sono a Galileo fu molto astuto disse a Bellarmino è una ipotesi matematica ma come ipotesi matematica posso io parlarne con studiosi cardinale Bellarmino gli disse sì certamente come ipotesi matematica e Galileo fondacissimo disse al cardinale Bellarmino me lo può mettere per iscritto e il cardinale Bellarmino gli disse certamente che dimise per iscritto che come ipotesi matematica si poteva parlare di questa questione quindi Galileo tornò trionfante aveva superato uno degli scogli più grossi il giudizio del primario dell'inquisizione e fu addirittura ricevuto dal Papa Paolo V Borgesi questo un evento incredibile cioè il Papa stesso del momento Paolo V se voglio non c'è Galileo e Paolo V Borgesi è il Papa che ha segnato la storia del monumento più celebre del cattolicesimo Romano San Pietro quando voi andate a Roma e vedete la facciata di San Pietro realizzata dall'architetto Maderno cosa trovate scritto sul frontone di questa sorta di tempio che il Maderno ha realizzato ispirandosi al mondo della classicità Paolo V Burgesi cioè Paolo V Borghese è il Papa della facciata di San Pietro e è il Papa che riceve Danileo Danileo torna prionfante ma la situazione presto degenera perché il suo grande protettore è grandemente malato cosimo secondo ha una gravissima malattia una malattia che ha vietuto vittime a non finire fino a anni a noi vicini sostanzialmente fino a 1945 quando è arrivata la medicina questa malattia si chiama tubercolore nel passato veniva spesso chiamata Tisi è un nome molto interessante molte malattie hanno denominazioni greche come sapete che ha fatto medicina e questa è una denominazione greca molto precisa qual è uno degli aspetti più tristi di questa malattia quando la tubercolosia attacca il colmone viene facilmente da sputare e nella fase più grave della malattia si sputa il sangue ma come si dice sputare in greco chi di voi ha fatto greco ricorda che ci sono delle espressioni che ricordano nel suono l'azione che viene fatta in greco vengono dette onomatopeiche e come si dice sputare sentite quindi quindi e cos'è la tisi è la malattia del spunto vedete come è completato proprio a questo aspetto ma come come veniva curata la tisi all'inizio del seicento non esistevano terapie di solito le terapie più comuni consistevano in salassi consistevano in punchi con salassare il malato di supercolore ma voi potete subito capire l'antimabra del decenso e il povero Cosimo II inizialmente è curato così i medici però riconoscero la malattia polmonare dissero che non c'era più niente da fare si poteva solo sperare in un virale il corpo del gran luca fu quindi un voluto con un olio miracoloso l'olio della lampada di San Nicola di Bacca che si richiedeva potente senza esercitare fu trovato il latte della madonna e beve il latte della madonna fu coperto il suo corpo dei reliqui e santi sperando che questi santi potessero agire ma anche questi non si 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 una reddita della croce una reddita di san carlo furono pestate messe in un'oscchia e fatte imputite al gran morito per voi buon la morte di cosimo secondo 1621 galileo rimase solo galileo rimase senza il suo grande protettore il nuovo granduca ferninando secondo era un bambino era il granduca ma era un bambino sotto la tutela della madre maria mandalina e della nonna cristina di torena molto interessante 1621 vedete questi collegamenti internazionali il potere in uno stato italiano firenze è uno stato importante significativo nelle mani di due donne maria mandalina d'ascurgo austriaca cristina di orella francese quindi un'austria e una francese hanno in mano il governo della toscana il piccolo ferninando secondo crescerà maria mandalena dal burgo cristina di lorena non vogliono scontrarsi con il papà galileo prosegue nei suoi studi prosegue nelle sue ricerche passano gli anni e arriva a una conclusione arriva alla certezza galileo qual è il centro dell'universo è il sole non è la terra è il sole a ragione coperni e finalmente vedete però il tempo è trascorso nel 1632 1632 Galileo pubblica la sua opera più certa il dialogo sui massimi sistemi dialogo sui massimi sistemi 1632 a chi aveva dedicato il Siderio Snuncius Cosimo II a chi dedica il dialogo sui massimi sistemi a Ferdinando II il suo figlio quindi i medici sono legatissimi a Galileo Caribe sono legatissimi a questo momento di grande apertura della scienza e nel 1632 Perdinando II mette a disposizione di Galileo addirittura uno dei suoi incisori di orde Stefano della Bella Stefano della Bella è un bravissimo incisore cosa fa Stefano della Bella per Galileo fa il frontespizio il frontespizio del dialogo sui massimi sistemi è un dialogo a chi si ispira dunque sotto il profilo filosofico Galileo chi ha scritto c'è di 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 chi è il difensore del sistema polemaico uno gioco ovviamente come si chiama semplicio è semplice di cervello vedete quindi non è persona molto attendibile il frontespizio è esemplare ci sono alcuni interlocutori che dialogano c'è un drappo nello sfondo con il titolo e la terra a Ferdinando secondo e lo stemma mediceo quindi è un libro legato alla dinastia legato alla porte Stefano della pelle è Papa ora Urbano Tampo Barberini Fiorentino nemico dei medici nemico dei medici Urbano Tampo Barberini era nato in piazza Santa Croce di lato nel lato destro guardando la facciata della chiesa è deciso affrontare la questione e noi vediamo nel 1632 una bomba che scoppia Galileo pubblica ha ottenuto il permesso di stampo forse molti non hanno legato attentamente il testo circola la testa con quel momento quando però il libro capita nelle mani del Sant'Ufficio lo scandalo la tesi copernicana ribadita da Galileo Roma convoca di nuovo Galileo Galileo è costretto a partire e a subire un nuovo processo un processo per egresia perché Roma quale tesi sostiene quella di Tolomeo quella di Tolomeo perché c'è un punto molto interessante nella Bibbia c'è un passo relativo a Giosuè Giosuè è in battaglia pronuncia una frase vuole avere più tempo per vincere chiede al sole di non tramontare e dice fermati o sole ma io posso dire a voi di fermarvi siete a sedere siete a fuori a chi si dice di fermarsi a chi si muore se Giosuè nel libro ripelato nella Bibbia dice al sole di fermarsi è chiaro che il sole si muore come si può sostenere che il sole sta fermando se si mette in dubbio la Bibbia in un punto si può mettere in dubbio la Bibbia in un punto ecco perché la Chiesa difende la tesi polemica e attacca coperti Gaideo assumirà un duro processo ma questo lo vedremo venerdì avete delle domande che